Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo ancora con la sanità perché la proposta di piani operativi alternativa, quella del commissario Paolo Frattura, esiste. L'hanno presentata i parlamentari del Partito Democratico Roberto Ruta e Danilo Leva, convinti del fatto che la sanità debba rimanere pubblica oltre che di qualità. Per il privato, dicono, deve esserci posto, senz'altro, ma in limiti ben precisi. In apertura, Anna Maria Di Matteo. Sul piatto della bilancia c'è la sanità pubblica da un lato, quella privata dall'altro. Attualmente il rapporto è il 70% per il pubblico, il 30% per il privato, mentre la proposta di piani operativi di frattura prevede un ulteriore sbilanciamento con il privato che salirebbe al 37% e la sanità privata che retrocederebbe al 63%. Un fatto inaccettabile per i due parlamentari del PD Roberto Ruta e Danilo Leva che hanno presentato in anteprima la stampa e punti salienti della loro proposta di piani operativi alternativa a quella della struttura commissariale, ribilanciando il forte squilibrio già esistente e che verrebbe ulteriormente accentuato dal piano frattura. Una proposta che, come hanno spiegato, parte da quella elaborata dell'ex commissario per la sanità, Carmine Ruta. Il rapporto, secondo i due esponenti del PD, deve essere necessariamente in favore della sanità pubblica che si attesterebbe sul 74,3% e con le strutture private le quali andrebbe assegnato il 25,7% come accade nel resto del Paese, hanno tenuto a sottolineare. Un discorso nel quale va inserita in particolare la posizione dell'ospedale Cardarelli di Campobasso che, secondo la proposta Ruta-Leva, deve mantenere la piena titolarità, senza equivoci, dell'offerta sanitaria per cardiologia e oncologia che invece, secondo l'idea di frattura, dovrebbe essere conferita in regime di esclusività alla Fondazione Giovanni Paolo II. Insomma, il Molise ha bisogno di una sanità di qualità per frenare la mobilità passiva che rappresenta un costo eccessivo per la Regione. Ma per ottenere questo risultato va rivista l'attuale organizzazione dell'offerta sanitaria con l'attivazione delle strutture territoriali, potenziando il 118 e distribuire in modo omogeneo il numero dei posti letto nei tre distretti di Campobasso, Termoli, Larino e Isernia, Venafro, Agnone. Una proposta articolata in oltre 200 pagine che contiene un'idea di sanità pensata su misura per il Molise e i molisani. Io vorrei sottolineare che la razionalizzazione del sistema pubblico necessaria non si comprende perché non debba riguardare anche il settore privato. Perché la sanità privata è complessa. E io perché non devo rafforzare chi mi garantisce la migliore qualità? Io e noi quello abbiamo fatto. Noi anche nella sanità privata abbiamo fatto scelte. Perché nella sanità privata dobbiamo ottenere una così vasta pluralità di soggetti che offrono servizi sanitari e invece non dobbiamo fare anche lì, come abbiamo fatto per la sanità pubblica, una scelta chiara e convinta. Puntare sulla qualità significa ridurre i centri di erogazione e differenziarli. Anche nel privato ne abbiamo fatto questa scelta. La coperta la conosciamo tutti, è quella e spetta alla politica decidere se tirarla più sulla pubblica o più sulla privata. Ad invarianza, come ci è stato chiesto, di tetto di spesa, il centro-sinistra costruisce un sistema sanitario che parte dalla sanità pubblica e si integra con quella privata, ma che non può fare il contrario. Quindi questa è un'affermazione di principio che poi va declinata nelle scelte concrete. E all'interno della nostra proposta ci sono le scelte concrete che rispondono a questo principio. La sanità dunque resta il terreno di scontro più aspro all'interno del Partito Democratico. La spaccatura tra i parlamentari e il governatore Frattura è sempre più evidente. Ora in Consiglio regionale sono attese la conta dei fedelissimi e le scelte del gruppo consigliare. Da Palazzo Moffa potrebbe partire una lunga stagione elettorale. Allora sentiamo il commento di Giovanni Di Tota. Mai così distanti, il rapporto tra il governatore e i parlamentari è ormai ad un punto di non ritorno. In pochi anni Frattura, visto come il nuovo da proporre perfino all'elettorato di centro-sinistra, lui che aveva impresso sulla carta d'identità politica il bandierino tricolore di Forza Italia, ha lasciato dietro di sé solo musilunghi. Tra questi, oggi gongolano quelli che si erano messi di traverso alla sua candidatura, obiettando proprio sulle origini non comuni al popolo di sinistra. Garanti dell'improvvisa conversione di Frattura furono proprio Danilo Leva, all'epoca segretario del Partito Democratico, e il senatore Roberto Ruta. Per sconfiggere il presidente Iorio, in carica da un decennio, inghiottirono il candidato proveniente dallo schieramento nemico, che di suo avrebbe comunque vinto le primarie, e un altrettanto indigesto accordo con l'eurodeputato di Forza Italia, Aldo Patriciello. Il distacco tra il presidente della regione e l'elettorato di centro-sinistra è stato quotidiano e progressivo. Sulle cause andrà fatto un approfondimento scrupoloso, ma il dato certo è che sul piano politico, oggi i primi avversari di Frattura siedono sulle sedie dello stesso partito. Avere nemici in casa non è una grande novità nella politica, ma essere la causa di una divisione così netta nel primo partito di governo della regione è una rarità assoluta. Ormai un anno e mezzo fa, il senatore Ruta aveva più o meno costretto Frattura ad un'insolita uscita pubblica. In piazza prefettura, Paolo e Roberto si erano promessi fedeltà e impegno reciproci su una decina di punti. Anzi, nove. Nove punti di governo e uno politico di verifica di quell'accordo, sul quale è sceso il silenzio. Qualche settimana fa, alla prima occasione di un confronto aperto, l'Assemblea del Partito Democratico a Isernia e il deputato Danilo Leva ha scandito una bocciatura politica senza precedenti. Per la regione, ha detto gelido, lavoriamo ad un'ipotesi alternativa. E lo stesso aggettivo alternativo è stato utilizzato dai due parlamentari seduti uno accanto all'altro per sottolineare che ormai il solco non è più colmabile e le due strade vanno in due direzioni diverse anche nella sanità. Da una parte quella imboccata da tempo dal governatore, che continua a godere del sostegno del segretario di oggi del PD e dello stesso eurodeputato di allora di Forza Italia. Dall'altra ci sono un senatore e un deputato che ormai non perdono occasione per smarcarsi da ogni azione intrapresa dal presidente. Che strada imboccherà il PD e una sempre più imbarazzata segretaria è ancora difficile da prevedere. Quello che è facile da pronosticare è che da qui in avanti il percorso per frattura sarà sempre più complicato e denso di ostacoli. E nel PD, dopo quella di leva e ruta, è attesa la presa di posizione del gruppo di Palazzo Moffa. La conta dei fedelissimi comincerà proprio dal Consiglio regionale. È lì che si capirà se la rottura è definitiva e se siamo all'inizio di una lunga stagione elettorale. E anche per la CGL c'è il rischio che la sanità pubblica venga sostituita da quella privata. Lo dichiara Guglielmo Di Lembo, segretario del Dipartimento Welfare, secondo il quale l'integrazione tra Cardarelli e Fondazione Giovanni Paolo II si sta cercando di far passare come una questione di sicurezza di organizzazione e di spazi, ma per la CGL il sospetto è che le cose non stiano affatto così. La sanità pubblica, hanno sostenuto dal sindacato, deve essere riqualificata, migliorando le prestazioni e riqualificando professionalmente il Cardarelli, risolvendo così in modo diverso da quello scelto nei piani operativi. La segretaria della CISL, Tecla Boccardo, ha invece annunciato che di riordino della sanità e di piani operativi parlerà il segretario generale della UIL, Carmelo Barbagallo, nell'incontro in programma a Campobasso il prossimo 20 febbraio. Cambiamo argomento. Dopo la proroga del fitto del ramo d'azienda tra la SPA e la SRL del nuovo zuccherificio che mette al riparo i lavoratori dal rischio di licenziamento, si guarda finalmente al futuro. C'è stata una riunione in azienda questa mattina convocata dall'amministratore unico per valutare una possibile campagna di trasformazione. C'era per noi Manuela Iorio. Una buona notizia nel panorama nero che avvolge ormai lo zuccherificio del Molise da tempo c'è stata e risale a qualche giorno fa quando, su indicazione dei commissari giudiziali Mileti e Musacchio, il giudice Rinaldo D'Alonso ha autorizzato la proroga del contratto di fitto del ramo d'azienda tra la SPA e la SRL fino al 31 dicembre del 2016. Un passaggio necessario per conservare la cassa integrazione ai 70 dipendenti e per evitarne il licenziamento. Sospiro di sollievo dunque per i lavoratori che avevano temuto il peggio, anche se resta nelle clausole indicate dal giudice la possibilità per chi dovesse comprare lo stabilimento di sciogliere anche immediatamente il contratto di fitto, con inevitabili conseguenze negative per i dipendenti. Per ora però i sindacati hanno espresso soddisfazione per la proroga che apre nuovi scenari non solo per i lavoratori ma anche per i compratori. È per questo che le associazioni di categoria hanno invitato anche alla programmazione della nuova campagna. Ci sono semine da decidere, fornitori da contattare. Un invito che a quanto pare è stato già accolto visto che proprio oggi c'è stato un incontro in azienda tra l'amministratore unico Fabio Marone e capi fabbrica. Un faccia a faccia per capire come affrontare la campagna e se ci sono le condizioni per farla. Insomma tutte valutazioni di natura tecnica che come ha spiegato Marone sono propedeutiche a un futuro riavvio della produzione. Sarebbe questa volta una campagna come da tradizione in estate con pochi quintali però da trasformare, il necessario per mantenere le quote. È un discorso ancora di natura embrionale, ci ha tenuto però a precisare Marone. Sul tavolo c'è poi il percorso avviato con l'assessore regionale Vittorino Facciolla per individuare fondi europei per il rilancio del settore. E poi con scadenza più vicina si guarda l'undicesimo bando di vendita, quello del 22 febbraio, con un prezzo a base d'asta sceso a 7 milioni di euro. E intanto c'è una buona notizia perché il pastificio La Molisana ha chiuso il 2015 con il quinto anno consecutivo di crescita e la quinta posizione raggiunta tra i produttori italiani di pasta, mentre il comparto fa i conti con la crisi. La famiglia Ferro, che ha rilevato il centenario pastificio di Campobasso dopo due fallimenti consecutivi, ha rilanciato il marchio sul mercato investendo più di 20 milioni di euro. Il bilancio aggregato ha superato i 150 milioni di euro, dei quali 80 provenienti dalla pasta e 70 dalla vendita. Di semola, chi compra i nostri prodotti? Ha spiegato l'amministratore delegato della molisana Giuseppe Ferro. Deve sapere cosa c'è dietro e di cosa sono fatti. Parliamo ora dell'inchiesta sul bollo auto. Compariranno davanti al gruppo di Isernia accusati di peculato e truffa i vertici di esattorie S.P.A. in relazione alla denuncia presentata contro di loro dalla regione Molise, che si è costituita parte civile e li accusa di essersi appropriati di parte delle somme riscosse proprio per il bollo auto. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Compariranno giovedì mattina davanti al gruppo di Isernia e i vertici di esattorie S.P.A. denunciati dalla regione Molise, che si è costituita anche come parte civile. Le accusa di essersi appropriati di parte delle riscossioni del bollo auto che fino al concordato era gestito dalla società Isernina. Un'accusa tutta da dimostrare chiaramente perché a più riprese anche nella fase del concordato, gestito dall'avvocato Lucio Francario, la famiglia Marcucci avrebbe dimostrato la correttezza del proprio operato. In altri termini, tutte le somme finite nel concordato, crediti e debiti, sarebbero state certificate e quindi non ci sarebbe alcun peculato truffa, come ipotizza l'accusa. Sono soldi finiti nel monte concordatario e monitorati direttamente dal giudice fallimentare di Isernia. Comunque, resta in piedi l'inchiesta della Procura e bisognerà dimostrare davanti al GUP la fondatezza delle tesi difensive. Ci sono poi altri due procedimenti paralleli, quello della Procura di Viterbo, dove la ex Sattoria S.P.A. gestiva la riscossione dei tributi comunali, e quella della Procura di Torino, dove i responsabili della Sattoria S.P.A. di Isernia sono indagati per peculato nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri, chiamata Cartax, sull'attività della Jack Spa e di società collegate nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche che portò all'arresto di 15 persone. Ma mentre gli altri indagati rispondono del reato associativo, ha spiegato l'avvocato Luigi Iosa, legale della famiglia Marcucci, insieme a Carlo Federico Grosso, i due Isernini non sono tra i sodali e hanno un ruolo del tutto marginale. Inoltre, il solo reato contestato dallo stesso pubblico ministero ai due indagati, ammesso che sussista, dice Iosa, non va investigato dalla Procura di Torino, ma senza dubbio in Molise. Termoli non ha mai fatto parte delle autorità di sistema portuale. Così, la deputata del Partito Democratico, Laura Vennitelli, ha replicato alle critiche arrivate dal centrodestra sull'esclusione del porto dal progetto di riordino. C'era per noi Fabrizio Occhionero. Il porto di Termoli, escluso dal riordino delle autorità di sistema, la parlamentare del PD, Laura Vennitelli, è intervenuta all'indomani delle critiche sollevate dal consigliere del nuovo centrodestra, Antonio Di Brino, e dall'ex presidente, Michele Iorio. Perché il porto di Termoli è un porto con giurisdizione regionale e conserva la sua giurisdizione regionale. Tra l'altro non rientra in questo sistema adesso, potrebbe sempre deciderlo di farlo dopo, perché si tratta di un porto che ha natura peschereccia, a funzione di porto peschereccio. Ma conviene fare richiesta di adessione a questa autorità oppure entra in gioco una questione di autonomia? Guardi, intanto io dico che oggi noi abbiamo conservato quella che è la giurisdizione regionale sul porto di Termoli. Quindi abbiamo conservato l'autonomia. Mi sembra strano che noi facciamo sempre del tema dell'autonomia un tema, il tema principale, e quando invece la conserviamo ci agitiamo per non averla persa. All'incontro ha partecipato anche il coordinatore cittadino del PD, Antonio Sciandra. Secondo la Venitelli occorre abbandonare le polemiche e individuare una strategia comune per rilanciare tutto il settore. Portare avanti quello che è l'obiettivo di costituire il distretto del medio adriatico della pesca. Questo obiettivo ci consente anche di dire che noi potremmo decidere o pensare nel futuro anche di rientrare nell'autorità di sistema portuale. Però, ribadisco, ci si entra perché lo si vuole e perché lo si decide autonomamente, non perché c'è un'imposizione dal Governo centrale. È stata firmata a Palazzo Vitale la convenzione tra regione, comuni e province per gli interventi approvati dal Dipartimento di Protezione Civile per il ripristino dei danni causati dal maltempo che colpì il Molise il 5 e 6 marzo dello scorso anno. Sono certo, ha detto il Governatore Paolo Di Laura Frattura, che con rapidità si darà seguito agli interventi finanziati con la prima tranche del 50% delle risorse riconosciute al Molise con lo stato di emergenza, così da ristorare i danni creati dal maltempo nel 2015. Campobasso è una delle città in cui gli affitti delle case costano di meno. È un dato in controtendenza rispetto al resto d'Italia, dove invece si sono registrati aumenti. Ma se da un lato le famiglie risparmiano sugli affitti, dall'altro sprecano facendo la spesa. Ci dice di più in questo servizio Silvia Valente. Vivere a Campobasso è conveniente. A dirlo è solo affitti la catena di agenzie immobiliari nel suo rapporto del 2015. Secondo la classifica stilata, il capoluogo molisano si piazza al secondo posto in Italia, preceduto solo da Potenza, con 381 euro al mese per affittare una casa, ben 135 euro in meno rispetto alla media nazionale. Mentre nel resto del paese i prezzi sono cresciuti, in Molise si viaggia controcorrente, con un calo del 5% sui costi e un aumento di 10 punti percentuali delle famiglie che scelgono di affittare una casa. Una scelta condivisa anche a livello nazionale, complice la crisi economica e la difficoltà di accedere ad un mutuo bancario per un eventuale acquisto. A scegliere la soluzione dell'affitto in città sono soprattutto lavoratori in trasferta e coppie senza figli, che coprono circa la metà delle locazioni. Mentre a sorpresa gli studenti universitari sono solo il 5%, nettamente al di sotto dell'andamento nazionale. A Campobasso si preferiscono i trilocali, si spendono 402 euro al mese per un appartamento arredato e circa 400 invece se si vuole anche il garage. Altri due dati incuriosiscono. In città si cambia casa più spesso che altrove, anche perché, stando ai dati di solo affitti, ci si impiega meno tempo a trovarne una. Milano resta la città più cara d'Italia, 916 euro al mese di media per un appartamento in periferia, più del doppio rispetto al Molise. Un risparmio notevole per le famiglie, ma doveva finire il tesoretto accumulato. Purtroppo non se ne fa buon uso, come ha evidenziato l'ADOC, l'associazione dei consumatori. Gli italiani sprecano il cibo, circa 380 euro all'anno, pari quasi a un mese di spesa. Un dato allarmante, dicono dall'associazione, anche se negli ultimi 5 anni la situazione è migliorata rispetto al passato. Latte, uova, carne, pane, frutta e verdura sono gli alimenti che finiscono più facilmente nella pattumiera, a causa di un acquisto eccessivo dovuto alle offerte speciali. Ed ecco il Vademecum proposto da ADOC, che fornisce una serie di consigli per evitare lo spreco alimentare. Comprare solo l'essenziale, usare gli avanzi del frigorifero o donarli ai poveri. Evitare le offerte stile 3x2, chiedendosi se quei prodotti servono davvero in casa, oltre a prestare maggiore attenzione ai metodi di conservazione degli alimenti. Un ultimo consiglio riguarda invece il modo di consumare i cibi. Limitare le porzioni potrebbe alleggerire il portafogli e la bilancia. Il convento dell'Abbazia di San Vincenzo è chiuso. La sorprendente decisione è stata presa dallo stesso abate di Monte Cassino, che ha trasferito le suore benedettine che vivevano nella struttura e custodivano anche le chiavi della cripta di Epifanio. Ancora Enzo di Gaetano. Le hanno portate via e hanno anche chiuso a chiave il monastero, dove erano custodite le chiavi per aprire il cancello e visitare gli scavi archeologici dell'antica Abbazia Benedettina di San Vincenzo a Volturno. La notizia l'ha data il professor Natalino Paone dell'Associazione Amici di San Vincenzo, allarmato per quanto sta accadendo intorno ad uno dei più importanti siti archeologici del Molise, l'Abbazia di San Vincenzo a Volturno. Lì dove c'è la cripta di Epifanio, è lì dove era attivo e funzionante un monastero di suore benedettine, provenienti dall'America, che curava con amore e rispetto il sito, con i suoi reperti e la sua storia centenaria, oltre che vivere coltivando un orto attiguo al convento. Le suore Filippa e Miriam sarebbero state trasferite improvvisamente in un altro convento di Cassino, sempre amministrato dal nuovo Abbate, Monsignor Donato Agliari. Come è noto, l'Abbazia e gli Scavi, pur facendo parte del territorio molisano, rientrano nel territorio amministrato dalla diocesi di Cassino e quindi dall'Abbate di Monte Cassino. Sostanzialmente il Molise ha dovuto subire una decisione che penalizza enormemente la nostra regione, il sito stesso, dove centinaia di turisti, dopo aver visitato gli Scavi, proseguivano nel loro tour visitando anche la Chiesa e il Convento delle Suore Benedettine. Ora gli amici di San Vincenzo, in particolare il presidente di Noricci e il professor Natalino Paone, si stanno mobilitando per chiedere all'Abbate di Monte Cassino di riaprire il Convento o, quantomeno, rendere nuovamente disponibile la visita ai turisti. Ci sono stati attimi di paura a Larino durante la sfilata dei carri per il Carnevale, quando una delle strutture ha preso fuoco probabilmente a causa di un cortocircuito. Il carro, lo vediamo nelle immagini che aveva come tema il no alla violenza sulle donne, si è incendiato in pochi attimi. C'è stato un fuggi-fuggi generale, una grande paura per la gente, mentre gli organizzatori hanno tentato di spegnere le fiamme. Poi i vigili del fuoco le hanno finalmente spente. Tanta paura dunque, ma per fortuna nessun ferito. La festa è stata comunque sospesa. E a Castelnuovo a Volturno è stato riproposto l'antico rito e bellissimo dell'uomo cervo. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. Quello dell'uomo cervo è senza dubbio uno dei riti più antichi e affascinanti della nostra regione. La rappresentazione viene proposta nella domenica che precede il Carnevale, ma il suo significato è molto più profondo. Le sue origini sono oscure. Tuttavia due aspetti saltano subito all'occhio. Da un lato viene rappresentato in maniera cruenta il passaggio delle stagioni. Dall'altro viene messa in evidenza la paura dell'uomo di fronte alla violenza della natura, che spesso finisce per travolgerlo. La maschera dell'uomo cervo dice tutto questo. Preceduti dai riti inquietanti di uno stregone, il maone, e delle ianare, le streghe, il cervo e la cerva seminano il terrore nel tranquillo borgo di Castelnuovo a Volturno. Martino, la maschera bianca, grazie alle sue magie riesce a catturare le due bestie. Una popolana cerca di calmarle, offrendo loro della polenta, ma servirà a poco. Il cervo e la sua compagna riescono a liberarsi e la piazza ripiomba nel terrore. Solo l'intervento di un cacciatore metterà fine a tutte le paure. Due colpi e gli animali cadono a terra. Poi avviene qualcosa di magico. Un soffio benefico ridona la vita ai due animali che, liberati dal male, tornano sereni sulle mainarde. È in paese di nuovo festa, tra l'ammirazione delle tante persone che anche quest'anno hanno partecipato alla rappresentazione. È un impegno che l'Associazione Cultura del Cervo sta portando avanti da diversi anni, con tanto lavoro, penso anche con tante belle cose, perché la gente che viene anno dopo anno ci dimostra che stiamo lavorando bene. La maschera non ha preso pete solo nella nostra regione, ma è andata oltre. Siamo contentissimi di quello che stiamo facendo. Stiamo lavorando per organizzare intanto un museo che ci darà poi la possibilità di portare ancora più gente durante l'anno. Questo penso che è una cosa bella, fare scambio di maschere, portare la nostra maschera in altri musei d'Italia. Penso che questo sarà un obiettivo che ci farà contenti. E a Campobasso i bambini della Scuola dell'infanzia CEP Nord sfileranno in maschera per le strade davanti all'Istituto Comprensivo Montini, partendo da Via De Gasperi. Sarà il loro modo di salutare il Carnevale. La sfilata in programma domani a partire dalle 10.30. Una manifestazione allegra, colorata, ma che al tempo stesso punti alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni popolari della città. E invece la mesaiola, il Carnevale di Campobasso, con i 12 mesi, riproposta ieri dall'Associazione La Polifonica Monforte davanti a un folto pubblico di grandi e bambini, il gruppo folcloristico si è esibito in canzoni della cultura popolare e con un divertente dialogo in vernacolo, un evento che è stato organizzato con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Campobasso. E parliamo ancora del Carnevale perché si è svolta a Trivento la dodicesima edizione del Palio delle Contrade, una sfilata di carri allegorici realizzati in occasione proprio di questa festività e c'era per noi Valeria Farina. Tanto divertimento e complicità, l'entusiasmo dei giovani e il confronto tra le generazioni, a Trivento tutto questo ha rappresentato la formula vincente per la dodicesima edizione del Palio delle Contrade, una sfilata di carri allegorici realizzata per Carnevale che si è svolta lungo le strade principali del paese. Cinque carri che hanno rappresentato diversi temi, dal clima ai cartoni animati, al Messico fino ai cult del cinema. Tante maschere e tanta gente per un'occasione all'insegna del divertimento e della spensieratezza. La festa, che si è svolta in due parti, è proseguita poi all'edificio polifunzionale dove sono state preparate pietanze tipiche della cucina triventina. Sagni e fagioli dolci e le immancabili pallotte al formaggio. Soddisfazione da parte dell'Associazione Culturale Cheope che ha promosso e realizzato l'evento. Tantissime persone hanno partecipato, oltre che l'entusiasmo dei ragazzi che hanno preparato i carri è stato ancora più grande, ancora più forte. Evidentemente è una manifestazione che sentono, la vogliono realizzare e grazie a loro, veramente con un grazie particolare, riusciamo a farla ogni anno e sicuramente a portare allegria e gioia nel nostro paese. Momenti di unione e di convivialità come questi rappresentano l'occasione per rafforzare l'identità socio-culturale di una comunità, garantendo in questo modo anche l'unione e il confronto tra i cittadini, anche perché la manifestazione ha coinvolto e visto in prima linea gli abitanti delle contrade di Trivento. Abbiamo un'altissima partecipazione di giovani soprattutto, ma è l'intera comunità che si ritrova intorno a questa manifestazione. Ripeto, questo è un aspetto molto bello, perché in un contesto difficile, in un contesto pieno di problemi, qualche ora di svago, ne abbiamo bisogno tutti quanti. Quindi benvengano anche questi appuntamenti per questa nostra comunità. Un incontro tra Polizia di Stato e gli studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Leopoldo Pilla di Campobasso. Diversi i temi che saranno affrontati, tra cui il bullismo, la sicurezza del web, gli effetti provocati dall'uso di droga e alcol. L'iniziativa è stata promossa e realizzata dal dirigente scolastico Rossella Gianfagna con i vertici locali della Polizia. L'appuntamento è previsto per domani alle 9.30 all'Istituto Pilla. Parliamo ora e ancora di scuola con l'open day dell'Isis Majorana Fascitelli di Isernia, organizzato per far conoscere le novità previste sia al liceo scientifico sia al liceo classico. Il servizio è ancora di Sergio Di Vincenzo. L'Isis Majorana Fascitelli di Isernia ha aperto le porte della sede centrale di corso risorgimento per far conoscere a tutti l'offerta formativa del liceo scientifico e del classico. Gli alunni delle scuole medie e i loro genitori hanno potuto visitare i laboratori, gli spazi utilizzati per le varie attività e naturalmente saperne di più anche sui percorsi curriculari ed extracurriculari previsti. Ma soprattutto sono stati messi al corrente delle novità proposte dai due storici istituti scolastici della città. Per quanto riguarda il liceo scientifico abbiamo riconfermato per quest'anno l'offerta formativa degli anni passati riguardante l'ordinamento, l'indirizzo di ordinamento, le scienze applicate e il liceo sportivo. La novità di quest'anno è rappresentata proprio dall'ordinamento con la previsione di due indirizzi alternativi, quello concernente l'asse dei linguaggi, il potenziamento dell'asse dei linguaggi e il potenziamento matematico-fisico, il potenziamento scientifico. Per quanto riguarda il liceo classico abbiamo legato ad aspetti classici, quelli che i nostri allunni poi apprezzano maggiormente, degli elementi innovativi. Mi riferisco all'introduzione di unità orarie aggiuntive in greco e latino destinate non ad attività teoriche ma al laboratorio teatrale che i nostri allunni apprezzano tanto e al laboratorio di archeologia. A guidare le tante persone che hanno partecipato all'open day ci hanno pensato gli studenti già iscritti raccontando le loro esperienze. Questi ad esempio sono i punti di forza dello scientifico Majorana. Mi vale la pena venire qui perché qualsiasi area che sia umanistica, che sia scientifica, che sia artistica viene ampliata e portata ovviamente a livelli decisamente alti, anche a livello sportivo. E inoltre ovviamente in questa scuola c'è da dire come ovviamente nel classico, ovviamente in tutto l'Isis, a fare grande questa scuola, ad essere questa scuola un po' d'eccellenza. Non lo rendono i grandi piani nazionali ma siamo noi studenti ad esserne parte attiva e concreta. Questa invece l'esperienza di chi frequenta il classico Fascitelli. L'atmosfera che si crea è un po' quella di una famiglia, insomma. Ci conosciamo un po' tutti anche perché, insomma, sapete che siamo pochi ed è una situazione anche abbastanza spiacevole, però ha i suoi pro e i suoi contro in quanto è possibile, diciamo, considerare ogni alunno come un singolo e non magari come un numero come avviene in scuola con il quadrupo, il quintuplo degli iscritti. Quindi ogni alunno viene trattato come dovrebbe, diciamo, gli insegnanti sono sempre disponibili ad aiutare. E con l'Open Day dell'Isis Majorana Fascitelli di Isernia termina anche l'ultima edizione del nostro telegiornale ed io vi saluto come sempre. Grazie perché scegliete Telemolise. Buonanotte.